di Elisabeth von Arnim, un incantevole aprile, bollati boringhieri edizione, traduzione di Luise Balacco. Primo capitolo. Tutto ebbe inizio in un club per signore di Londra un pomeriggio di febbraio. Il club era modesto, il pomeriggio deprimente, quando la signora Wilkins, giunta da Hampstead per fare acquisti dopo aver pranzato al club di cui faceva parte, prese il Times da un tavolo della sala fumatori e scorrendo con occhio distratto la colonna degli annunci personali vide questo annuncio. Per gli amanti dell'iglicine del sole, piccolo castello medievale italiano sulle coste del Mediterraneo affittasi a mobiliato per il mese di aprile, servitù inclusa. Così nacque l'idea. Ma come spesso accade, chi la concepiva in quel momento non era affatto consapevole. Del tutto ignara di come in quel preciso istante si fosse per lei deciso l'aprile di quell'anno, la signora Wilkins lasciò cadere il giornale con un gesto tra l'irritato e il rassegnato, e avvicinatasi alla finestra si mise a fissare con tristezza la strada bagnata. Non per lei erano i castelli medievali, neppure quelli intenzionalmente descritti come piccoli. Non per lei le coste del Mediterraneo in aprile, il glicine, il sole, simili delizie erano solo per i ricchi. Eppure l'inserzione si rivolgeva alle persone che amano queste cose, quindi anche a lei, che di certo le amava, più di quanto fosse noto, più di quanto avesse mai detto. Ma era povera. Di suo possedeva novanta sterline in tutto, risparmiate anno dopo anno, messe da parte con cura, sterlina su sterlina, dalle spese per il vestiario. Era una somma racimolata a fatica sul suggerimento del marito come protezione e rifugio per i tempi duri. Il denaro per i vestiti che riceveva dal padre ammontava a cento sterline l'anno. Gli abiti della signora Wilkins erano pertanto ciò che il marito, spingendola a risparmiare, definiva modesti ma appropriati e che i suoi conoscenti, se e quando parlavano di lei, cosa che avveniva di rado perché passava del tutto inosservata, chiamavano modelli esclusivi. Il signor Wilkins, un avvocato, esortava sempre la parsimonia, eccetto quando si trattava del suo cibo. Allora non la chiamava più parsimonia, ma cattiva economia domestica. Al contrario esprimeva grandi elogi per quella parsimonia che, come le tarme, penetrava negli abiti della signora Wilkins, rovinandoli. I momenti difficili sono come i giorni di pioggia, diceva. Non si sa mai quando arrivano. Potrebbe farti comodo avere da parte un gruzzoletto, anzi potrebbe far comodo a tutti e due. Guardando Shaftesbury Avenue dalla finestra del club, il suo era un club poco costoso ma comodo, sia per Hampstead dove viveva, sia per Schoolbred dove andava a far spese. La signora Wilkins, che per un po' era rimasta in piedi pervasa di tristezza pensando al Mediterraneo in aprile, al glicine e alle invidiabili possibilità dei ricchi, lo sguardo alla pioggia foliginosa e violenta che si riversava incessante sugli ombrelli frettolosi e sugli autobus che schizzavano tutti intorno, si domandò all'improvviso se per caso non fosse questo il giorno di pioggia in cui Mellers, Mellers era il signor Wilkins, l'aveva tanto spinta a prepararsi e se per caso la provvidenza non avesse stabilito sin dall'inizio che lei dovesse utilizzare i suoi risparmi per evadere da quel clima e raggiungere il piccolo castello medievale. Solo una parte dei suoi risparmi naturalmente, forse una piccolissima parte, il castello essendo medievale poteva essere anche in rovina e le rovine costavano sicuramente poco. Un po' di rovine non le sarebbero dispiaciute affatto perché esistendo già non si pagavano, al contrario, erano loro a ripagarti facendo diminuire il prezzo, ma che pensieri sciocchi! Si allontanò dalla finestra con quello stesso gesto misto di irritazione e rassegnazione con cui aveva posato il Times e attraversò la stanza dirigendosi verso la porta decisa a prendere impermeabile ombrello, farsi largo in uno di quegli autobus sovraffollati, quindi passare da Skulbridge lungo la strada di casa e comprare delle sogliole per la cena di Mellersh. Il fatto di pesce Mellersh aveva gusti difficili, oltre a salmone gli piacevano solo le sogliole. Quando vide la signora Arbotnot, una signora che conosceva di vista perché anche lei viveva a Hampstead e frequentava il club, era seduta al tavolo nel centro della stanza sul quale si venevano giornali e riviste immersa a sua volta nella prima pagina del Times. La signora Wilkins fino ad allora non aveva mai parlato con la signora Arbotnot, che faceva parte di uno dei tanti gruppi di parrocchiani e che analizzava, classificava, divideva e registrava i poveri. Lei e Mellersh invece quando uscivano andavano ai ricevimenti dei pittori impressionisti che a Hampstead Heath erano numerosi. La sorella di Mellersh ne aveva sposato uno ed era andata a vivere proprio a Hampstead e a causa di questa parentela la signora Wilkins era stata trascinata in un ambiente a lei del tutto estraneo e aveva imparato a temere i quadri. Bisognava sempre commentarli e lei non sapeva mai cosa dire, così di solito mormorava meraviglioso e tutte le volte aveva la sensazione che non fosse abbastanza, ma nessuno le badava, nessuno l'ascoltava, nessuno prestava la minima attenzione alla signora Wilkins, il tipo di persona che ai ricevimenti non si nota. I suoi abiti, infestati dalla parsimonia, la rendevano praticamente invisibile. Il suo viso non faceva colpo, era reticente alla conversazione, era timida e se gli abiti, il viso e la conversazione di una persona passano inosservati, pensava la signora Wilkins, chi si sarebbe accorto dei suoi limiti? Che cosa resta ai ricevimenti di una persona del genere? Inoltre era sempre con Wilkins, un uomo di bell'aspetto, perfettamente rasato, la cui sola presenza dava lustro a una festa. Wilkins, suo marito, era molto rispettabile, era noto per la grande stima di cui godeva tra i colleghi più anziani. Nell'ambiente della sorella tutti lo ammiravano, egli esprimeva giudizi intelligenti, quanto basta, sull'arte e sugli artisti, era conciso e avveduto, non diceva mai una parola di troppo né d'altro canto mai una di meno, dava l'impressione di serbare una copia di ogni cosa che dicesse e ispirava fiducia in modo così naturale che accadeva spesso che qualcuno, dopo averlo incontrato a uno di questi ricevimenti, cominciasse a essere insoddisfatto del proprio avvocato e, dopo un periodo di irrequietezza, se ne liberasse per rivolgersi a lui. Era ovvio che la signora Wilkins ne fosse offuscata. Lei dovrebbe restarsene a casa, diceva la sorella di lui, con un che di perentorio sentenzioso e irrevocabile nei modi. Ma Wilkins riteneva impossibile lasciare la moglie a casa, era un avvocato di cause familiari e questi hanno tutti una moglie da mostrare in pubblico. Con la sua andava ai ricevimenti durante la settimana e in chiesa la domenica. Ancora piuttosto giovane, aveva 39 anni e, desideroso di farsi notare dalle signore più anziane, per ora poco numerose, tra la sua clientela, non poteva permettersi di non andare in chiesa e fu proprio là che la signora Arbotnot divenne familiare alla signora Wilkins, sebbene non si fossero mai scambiate una parola. La osservava mentre schierava i bambini poveri nei banchi. Entrava in testa alla processione dal catechismo domenicale, cinque minuti esatti prima del coro. Disponeva i bambini e le bambine in ordine perfetto, nei posti assegnati, li faceva mettere in ginocchio per la preghiera preliminare e poi di nuovo in piedi. Quando le note dell'organo si levavano alte, proprio mentre la porta della sagrestia si apriva e comparivano il coro e i sacerdoti, resi maestosi dalle litanie e dai versetti che si accingevano a recitare. Sebbene avesse un viso triste, era molto efficiente. Questa combinazione meravigliava la signora Wilkins perché nei giorni in cui riusciva a trovare soltanto la platessa, Mellers le diceva che con l'efficienza si elimina la depressione e che facendo bene il proprio lavoro si diventa automaticamente brillanti e decisi. La signora Arbotnot non aveva niente di brillante e di deciso, benché il suo modo di fare con i bambini del catechismo domenicale avesse molto di meccanico, ma quando la signora Wilkins, allontanandosi dalla finestra, la scorse nel club, non vi era in lei nulla di meccanico, anzi, guardava fisso un pezzo della prima pagina del Times, tenendo il giornale immobile e senza muovere gli occhi. Lo fissava soltanto e il suo volto, come sempre, pareva quello di una madonna paziente e delusa. Obedendo a un impulso di cui si meravigliò nel momento stesso in cui lo seguiva, la signora Wilkins, la timida e schiva, invece di dirigersi come si era proposta al guardaroba e di cui da sculbrede in cerca del pesce per Mellers, si fermò al tavolo e si sedette esattamente di fronte alla signora Arbotnot, con cui non aveva mai parlato in vita sua. Era un tavolo lungo e stretto come quelli degli refettori, sicché si ritrovarono molto vicine l'una all'altra. La signora Arbotnot tuttavia non alzò lo sguardo, continuò a fissare con insistenza un unico punto del Times, gli occhi sognanti. La signora Wilkins l'osservò per qualche istante, tentando di raccogliere il coraggio necessario a rivolgerle la parola. Voleva chiederle se avesse visto l'annuncio, non sapeva perché, ma desiderava farlo. Che stupida non riuscire a parlarle, sembrava così gentile, così infelice. Perché due persone infelici non possono sostenersi a vicenda nell'arido mestiere della vita con una chiacchieratina, una chiacchieratina sincera e spontanea sui loro sentimenti, i desideri, le speranze che ancora possiedono. E non poté far a meno di pensare che anche la signora Arbotnot stesse leggendo quel medesimo annuncio. Teneva gli occhi proprio su quella parte del giornale, stava forse immaginando anche lei come sarebbe stato? I colori, i profumi, la luce, il mare che lambisce dolcemente i piccoli scogli assolati. I colori, i profumi, la luce, il mare, niente più Shaftesbury Avenue, autobus bagnati, reparto del pesce di Skulbridge, metropolitana fino a Hempstead decena e domani lo stesso e il giorno dopo lo stesso e sempre, sempre lo stesso. D'un tratto la signora Wilkins si ritrovò protesa sul tavolo. State per caso leggendo del castello medievale e del glicine? Sentì la propria voce formulare questa domanda. Va da sé che la signora Arbotnot rimase sorpresa, non più sorpresa però di quanto non lo fosse la signora Wilkins di se stessa. La signora Arbotnot non aveva ancora posato gli occhi sulla figura scialba, esile e trasandata seduta di fronte a lei. Quel viso piccolo e lentigginoso e i grandi occhi grigi che quasi scomparivano sotto un cappello da pioggia sgualcito. La guardò per un attimo senza rispondere. Stava proprio leggendo del castello medievale e del glicine, o piuttosto ne aveva letto dieci minuti prima e da allora si era perduta nei sogni. La luce, i colori, i profumi, il mare che lambisce dolcemente i piccoli scogli assolati. «Perché me lo chiedete?» disse con quel suo tono serio, poiché l'esperienza a contatto dei poveri l'aveva resa seria e paziente. La signora Wilkins arrossì e apparve eccessivamente timida e impaurita. «Oh, solo perché l'ho visto anch'io e ho pensato che forse, beh, ho pensato che magari…» balbettò. Al che la signora Arbotnot avvezza a catalogare e a suddividere le persone. Mentre fissava pensierosa, la signora Wilkins valutò, come sua abitudine, in che sezione sarebbe stato opportuno inserirla nel caso avesse dovuto classificarla. «Io vi conosco di vista!» continuò la signora Wilkins, che, come tutti timidi, una volta cominciato si gettava a capo fitto, spinta a parlare sempre di più dalla paura del suono delle sue ultime parole che le ronzavano nelle orecchie. «Sapetevi, vi vedo tutte le domeniche, vi vedo in chiesa, tutte le domeniche!» «In chiesa?» fece ecco la signora Arbotnot. «E sembra così incantevole quell'annuncio sul glicine e…» La signora Wilkins, che doveva avere almeno trent'anni, si interrompe agitandosi sulla sedia con i movimenti di una scolaretta goffa e imbarazzata. «Sembra così incantevole!» riprese di botto. «E oggi il tempo è così triste!» Poi si sedette guardando la signora Arbotnot con l'espressione di un cane bastonato. «Questa poveretta, pensò la signora Arbotnot, che passava la vita ad aiutare e a consolare, ha bisogno di un consiglio! Perciò si apprestò con pazienza a darglielo!» «Immagino che viviate anche voi a Hampstead, disse gentile premurosa, se mi vedete in chiesa!» «Oh sì, certo!» disse la signora Wilkins e lo ripetè, inclinando un po' con la testa sul collo lungo e sottile, quasi che il richiamo a Hampstead gliela piegasse. «Certo!» «Dove?» chiese la signora Arbotnot, che quando serviva un consiglio iniziava istintivamente con l'ordinare i fatti. Ma la signora Wilkins, che aveva posato la mano con dolcezze, accarezzava la parte del Times su cui era l'annuncio, come se le semplici parole stampate fossero preziose, disse soltanto. «Ecco, forse perché questo mi sembra così incantevole!» «No, penso che lo sia comunque», disse la signora Arbotnot con un debole sospiro dimentica dei fatti. «Allora lo stavate proprio leggendo?» «Sì», disse la signora Arbotnot, lo sguardo di nuovo perso nel sogno. «Non sarebbe incantevole?» mormorò la signora Wilkins. «Incantevole», disse la signora Arbotnot, e il suo volto, che si era acceso, scolorì di nuovo nella pazienza. «Davvero incantevole», disse, «ma non serve a niente perdere tempo pensando a queste cose!» «Oh, invece sì, che serve?» fu la risposta pronta e sorprendente della signora Wilkins. «Sorprendente perché così diversa da lei, dalla giacca e dalla gonna ordinaria e dal cappello spiegazzato, dalla ciocca incerta di capelli che ne fuoriusciva disordinata, e anche solo pensarci può servire a qualcosa, un tale cambiamento da Hampstead, a volte penso, penso proprio che, che basti essere convinti per ottenere le cose!» La signora Arbotnot l'osservò con pazienza. «In che categoria avesse dovuto farlo? L'avrebbe collocata?» «Forse è il caso», disse piegandosi un poco in avanti, «che mi diciate come vi chiamate, se dobbiamo diventare amiche?» fece il suo solito sorriso serio, «come spero diventeremo, faremo bene a cominciare dall'inizio». «Oh, certo, certo, molto gentile da parte vostra, io mi chiamo signora Wilkins», disse la signora Wilkins. «Non credo», aggiunse arrossendo mentre la signora Arbotnot taceva, «che il mio nome vi dica qualcosa, a volte, a volte non dice niente neanche a me». «Comunque», si guardò attorno come in cerca di aiuto, «io mi chiamo signora Wilkins». Non amava il suo nome, troppo corto, insignificante, con una sorta di piega ridicola verso la fine, pensava, simile alla curva in su della coda di un carlino. Ma era quello, non c'era niente da fare, Wilkins era, e Wilkins sarebbe rimasta, e sebbene il marito l'avesse esortata a presentarsi sempre come signora Mellers Wilkins, lei lo faceva solo quando lui la poteva sentire, perché pensava che Mellers peggiorasse Wilkins enfatizzandolo, come la parola Chessworth sui pilastri del cancello enfatizza la villa. La prima volta che le suggerì di aggiungere Mellers, lei gli fece questa obiezione ed egli facendo una pausa, Mellers era così prudente che non parlava se non dopo una pausa, durante la quale forse preparava nella sua mente la copia precisa di ciò che avrebbe detto, e gli disse, con tono dispiaciuto, ma io non sono una villa, e la guardò come uno che forse per l'ennesima volta spera di non aver sposato una stupida. Certo che non era una villa, lo rassicurò la signora Wilkins, non aveva mai creduto che lo fosse, non l'era passato per la testa di voler dire quello, stava solo pensando che più lei spiegava, più ardente diventava la speranza di Mellers, in lui ormai consuete, essendo suo marito da due anni, di non avere per caso sposato un idiota ed ebbero una lite interminabile, se così si può definire una lite in cui una parte rimane in decoroso silenzio e l'altra si scusa con insistenza, sul fatto che fosse vero o meno che la signora Wilkins avesse voluto insinuare che il signor Wilkins fosse una villa. Sono certa, aveva pensato quando finalmente terminò la lite e ci vuole del tempo, che chiunque litigarebbe per qualsiasi cosa quando si tratta di persone che per due anni non sono state lontane l'una dall'altra neppure un giorno e tutti e due abbiamo bisogno di una vacanza. Mio marito, continuò la signora Wilkins, quasi a voler mettere se stesse in una luce migliore, è un avvocato, lui, lui, si guardò intorno cercando qualcosa che meglio qualificasse Mellers e trovò, è molto bello. Beh, disse la signora Arbotnot con gentilezza, deve essere un gran piacere per voi. Perché? chiese la signora Wilkins. Beh, disse la signora Arbotnot presa alla sprovvista, abituata come era, dai continui rapporti con i poveri a non essere mai contraddetta, perché, perché la bellezza, la bellezza di un uomo è un dono come un altro e se lo si usa come si deve, scivolò nel silenzio. I grandi occhi grigi della signora Wilkins erano fissi su di lei e alla signora Arbotnot ad un tratto venne il sospetto che forse, per via di quel pubblico che in genere aveva davanti persone costrette ad acconsentire e timorose, anche nel caso avessero desiderato di interromperla, che non sapevano di essere, ma di fatto erano alla sua mercè, si stava irrigidendo nella consuetudine a spiegare e spiegare come fanno le bambinaie. Ma la signora Wilkins non la stava ascoltando, proprio allora, per quanto assurdo potesse sembrare, un'immagine le era ballenata in mente e in essa due figure stavano sedute insieme sotto un grande glicine rampicante che si stendeva tra i rami di un albero a lei sconosciuto ed erano lei e la signora Arbotnot. Le vedeva, le vedeva coi suoi occhi e alle loro spalle, splendenti alla luce del sole, erano antiche mura grigie. Il castello medievale lo vedeva, loro due erano là. Fissava quindi la signora Arbotnot senza udire una sola parola di quel che diceva e anche la signora Arbotnot fissava la signora Wilkins, trattenuta dall'espressione del suo viso che era dominato dall'euforia di quella visione e luminoso e mutevole come l'acqua alla luce del sole quando viene increspata da un refolo di vento. In quel momento, se la signora Wilkins si fosse trovata a un ricevimento, l'avrebbero guardata di certo con interesse. Si fissarono, la signora Arbotnot a sorpresa e con sguardo indagatore, la signora Wilkins con gli occhi di chi ha avuto una rivelazione. Ecco, così bisognava fare, lei sola, lei senza nessuno, non poteva permetterselo e non sarebbe riuscita, avesse anche potuto ad andarci per conto suo, ma lei e la signora Arbotnot insieme. Si piegò in avanti. Perché non proviamo a prenderlo noi? Sussurrò. La signora Arbotnot sgranò ancora di più gli occhi. Prenderlo noi? Sì, disse la signora Wilkins, quasi temesse ancora di farsi sentire. È inutile stare qui a dire incantevole e poi tornare a casa a Hampstead senza aver mosso neanche un dito. Tornare a casa come al solito e pensare alla cena e al pesce come facciamo da anni e continueremo per chissà quanti ancora. Ecco tutto, disse la signora Wilkins arrossendo fino alla radice dei capelli per lo spavento del suono di ciò che diceva, di ciò che iniziava a venire fuori senza che riuscisse a fermarlo. Non vedo una fine a tutto questo. Non c'è una fine. Ecco perché dovrebbe esserci una pausa. Dovrebbero esserci interruzioni nell'interesse di tutti. Infatti non sarebbe un atto di egoismo andarsene ed essere felici per un po' perché poi al ritorno saremo molto più gentili. Capite? Dopo un po' tutti hanno bisogno di una vacanza. Ma cosa intendete per prenderlo noi? Chiese la signora Arbotnot. Appropriarcene, disse la signora Wilkins. Appropriarcene? Affittarlo, disporne, andarci? Ma intendete voi e io? Sì, noi due, insieme. Così costerebbe soltanto la metà e poi voi... Sembra proprio che voi ci teniate almeno quanto ci tengo io. Sembra che abbiate bisogno di riposare, bisogno che vi succeda qualcosa di bello. Ma come noi, noi neppure ci conosciamo. Oh, pensate a come diventeremmo amiche se andassimo via insieme per un mese. Ho risparmiato nell'attesa di un giorno di pioggia e credo che anche voi l'abbiate fatto. Questo è il giorno di pioggia, guardate fuori. È una squillibrata, pensò la signora Arbotnot. Arbotnot. Tuttavia si sentì stranamente eccitata. Provate a pensare, andarsene via per un mese intero, via da tutto, in paradiso. Cose del genere non le dovrebbe dire, pensò la signora Arbotnot. Il vicario? Eppure si sentì stranamente eccitata. Sarebbe stato davvero magnifico concedersi un po' di riposo. Una pausa. E tuttavia l'abitudine prese di nuovo il sopravvento e anni di rapporti con i poveri. Le fecero dire, con la superiorità leggere e non di meno cordiale di chi spiega, ma vedete, il paradiso non è altrove, è qui e adesso. Così ci insegnano. Si fece molto seria, come accadeva quando cercava pazientemente di aiutare ed illuminare i poveri. Il cielo è dentro di noi, disse con la sua voce bassa e delicata. Cielo insegna l'autorità più sacra. Voi conoscete i versetti sulle affinità, vero? Oh, certo che li conosco, interruppe la signora Wilkins con impazienza. Le affinità tra il paradiso e la nostra dimora, continuò la signora Arbotnot, abituata a concludere le frasi. Il paradiso è nella nostra dimora. Non è vero, disse la signora Wilkins ancora una volta inaspettatamente. La signora Arbotnot fu presa alla sprovvista, poi disse con calma. Oh, invece sì, è lì se noi lo vogliamo, se ci sforziamo. Io lo voglio e mi sforzo, ma non c'è, disse la signora Wilkins. Quindi la signora Arbotnot restò in silenzio perché anche lei a volte aveva dei dubbi in proposito. Rimase seduta, guardando la signora Wilkins con disagio, sempre più assillata dall'esigenza di classificarla. Se solo fosse riuscita a classificare la signora Wilkins, a metterla al sicuro nella giusta sezione. Sentiva che avrebbe riacquistato il proprio equilibrio, che inaspettatamente pareva scivolare tutto da un lato. Erano anni, infatti, che anche lei non si concedeva una vacanza e appena aveva visto l'annuncio aveva incominciato a sognare. L'euforia della signora Wilkins era contagiosa e lei aveva la sensazione, ascoltando il suo discorso appassionato e bizzarro e guardandole il viso illuminato, divenire scossa dal torpore. Chiaramente la signora Wilkins era squilibrata, ma la signora Arbotnot ne aveva già incontrati tanti, in verità ne incontrava di continuo, eppure non avevano influenzato minimamente il suo equilibrio. Invece in questo caso si sentiva vacillare, proprio come se essere distante e lontano dai suoi punti cardinali di io, marito, casa e dovere, aveva l'impressione che la signora Wilkins non intendesse far venire il signor Wilkins e per una volta nella vita essere felice fosse giusto e desiderabile, il che sicuramente non era, sicuramente non poteva esserlo. Anche lei aveva un gruzzoletto depositato lentamente alla posta, ma era davvero assurdo pensare che avrebbe dimenticato il proprio dovere al punto da prelevare quei soldi e spenderli per se stessa. Davvero non lo avrebbe fatto? Non avrebbe mai potuto fare una cosa del genere? Davvero non avrebbe dimenticato? Non avrebbe mai potuto dimenticare i suoi poveri e con questi anche le miserie e le malattie? Senza dubbio un viaggio in Italia sarebbe stato straordinariamente piacevole, ma esistevano molte cose piacevoli che tutti avrebbero voluto fare e a che scopo ci veniva data la forza se non per aiutarci a non farle. Saldi come i punti cardinali erano per la signora Arvotnot le quattro grandi realtà della vita, Dio, marito, casa e dovere. Ania dietro dopo un periodo particolarmente infelice aveva trovato ristoro in queste realtà, la testa appoggiata su di loro come su di un cuscino ed era vissuta nel terrore di venire risvegliata da una simile condizione di sicurezza e tranquillità. Eccola dunque cercare assiduamente una sezione in cui collocare la signora Wilkins e così illuminare e rafforzare la propria mente e sedendola a guardarla, turbata dopo l'ultimo commento di lei sentendosi sempre più squilibrata e insicura, decise, protemma, come diceva il vicario agli incontri, di collocarla nella sezione nervosi. Forse poteva andare direttamente nella categoria isterici, spesso anticamera di quella dei pazzi, ma la signora Arvotnot aveva imparato a non mettere subito le persone nelle categorie estreme, avendo scoperto con sgomento in più di un'occasione di aver sbagliato e ricordandosi di quanto fosse stato difficile porre dei rimedi e di quali terribili rimorsi l'avessero dilaniata. Sì, nervosi. Di certo non faceva niente per gli altri, pensò la signora Arvotnot. Nessuna azione che la distogliesse da se stessa evidentemente le mancava una guida, era trascinata dagli accessi, dagli impulsi. Rientrava, era quasi sicura, nella categoria dei nervosi o vi sarebbe finita presto se nessuno l'avesse aiutata. Poverina, pensò la signora Arvotnot, riacquistando l'equilibrio di pari passo con la compassione e senza riuscire a vedere, a causa del tavolo, la lunghezza delle gambe della signora Wilkins. Ne scorgeva soltanto il volto, minuto, impaziente e timido, le spalle magre e lo sguardo dal desiderio infantile di qualcosa che era certa l'avrebbe resa felice. No, queste cose non rendevano felice una persona, erano così passeggere. Nella sua lunga vita con Frederick, era suo marito, lo aveva sposato a vent'anni e ora ne aveva trentatré, la signora Arvotnot aveva imparato dove si può trovare la vera gioia. Adesso lo sapeva, la si trova solo vivendo ogni giorno, ogni istante, per gli altri. La si trova solo ai piedi di Dio. Non vi si era forse recata mille volte nei momenti di delusione e di sconforto per poi venirne via consolata. Frederick era uno di quei mariti, la cui moglie non può che rivolgersi presto ai piedi di Dio. Tra lui e quest'ultimo il cammino era stato breve, seppure doloroso. Ripensandoci ora le sembrava breve, ma in realtà l'aveva impegnata per tutto il primo anno di matrimonio. Ogni passo era stata una battaglia ed era macchiato, le pareva allora, del sangue che aveva dovuto versare. Acqua passata ormai da un pezzo, aveva trovato la pace e Frederick, lo sposo un tempo amato appassionatamente, il giovane e adorato marito adesso veniva dopo Dio nel suo elenco di doveri e di sopportazioni. Eccolo là, secondo per importanza. Un essere esangue ridotto allo stremo a causa delle preghiere di lei. Per anni era riuscita a essere felice solo dimenticando la felicità e voleva continuare, voleva tenere lontano tutto quel che le avrebbe ricordato la bellezza, che l'avrebbe di nuovo indotta a desiderare, ad anelare. Vorrei tanto che fossimo amiche, disse con convinzione, perché non venite a trovarmi qualche volta? O forse preferite che sia io a venire da voi, quando sentite il bisogno di parlare con qualcuno. Vi lascio il mio indirizzo, cercò nella borsetta, così non ve lo dimenticate. Trovò un biglietto da visita e lo tirò fuori. La signora Wilkin signorò il biglietto da visita. È strano, disse, come se non l'avesse sentita, eppure vedo proprio noi due, voi e Dio, ad aprile nel castello medievale. La signora Arbotnot ripiombò nell'inquietudine. Davvero? Disse, facendo uno sforzo per rimanere calma davanti a quello sguardo allucinato di quegli occhi grigi e brillanti. Davvero? Oh, non vi capita mai di vedere le cose come in un lampo prima che accadano, chiese la signora Wilkins. No, mai, disse la signora Arbotnot. Tentò di sorridere in quel modo comprensivo e insieme saggio e tollerante con cui era abituata ad ascoltare le visioni inevitabilmente distorte e frammentarie dei poveri, ma non ci riuscì. Il sorriso si smorzò con un fremito. Certo, disse sottovoce, quasi temesse che il vicario e la banca la stessero ascoltando. Sarebbe davvero stupendo, davvero stupendo. Anche se fosse sbagliato, disse la signora Wilkins, si tratterebbe poi solo di un mese. Ma questo, iniziò la signora Arbotnot, alludendo chiaramente a quanto fosse riprovevole un simile ragionamento, ma la signora Wilkins la fermò prima che potesse continuare. E comunque, disse interrompendola, sono sicura che sia sbagliato essere buoni per troppo tempo, fino alla disperazione, e vedo che voi lo siete stata per anni e anni, perché sembrate così infelice. La signora Arbotnot apri bocca per protestare e io, io non ho avuto altro che doveri, non ho fatto che cose per gli altri, sin da quando ero ragazza. E credo che nessuno mi ami neanche un po', forse un pochino, al massimo. E vorrei tanto, oh, vorrei tanto, qualcos'altro, sì, qualcos'altro. Avrebbe pianto? La signora Arbotnot, profondamente a disagio e commossa, sperò che non si mettesse a piangere, non lì, non in quella sala ostile, in presenza di estranei che entravano e uscivano. Allora, la signora Wilkins, dopo essersi affannata per prendere dalla tasca un fazzoletto che non voleva uscire, riuscì infine a far finta di soffiarsi solo il naso. Poi, sbattendo velocemente gli occhi alcune volte, guardò tremante la signora Arbotnot, con un'aria di messa e spaventata, quasi volesse scusarsi e sorrise. Credetemi, sussurrò cercando di controllare le labbra ed evidentemente vergognandosi molto di se stessa. Mai, mai in vita mia ho parlato così a qualcuno, non riesco a capire, davvero, davvero non so cosa mi sia accaduto. È per l'annuncio, disse la signora Arbotnot facendo un cenno serio col capo. Sì, disse la signora Wilkins, asciugandosi furtivamente gli occhi. Ed è che noi siamo così, si soffiò ancora un po' col naso, così infelici.